Il minimo è un massimo da 500 a 1000, devi portare un 10% di meno, del massimo un 10% in più del minimo, ecco perché il mio legale è in analisi, lo capito, meno male, i consolati non ci sono, non si fanno trovare, i nostri emigrati all'estero vorrebbero votare, starci vicino, cazzo vanno al consolato, è chiuso, non hanno il server rotto, nessuno mi ha detto non ho il modulo della Camera e poi per posta, votiamo per posta, facciamo le code con le transene, per posta, allora manda il posta, da New York arriva la lettera alla posta italiana, vai a cercarla, la prendi, la devi portare al tribunale, dirò, è veramente, le hanno tentate tutte, accorpare tutto a febbraio, mai si era votato a febbraio, nevica, freddo, le hanno sentate tutte per mortificare.